Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliato e c'è un tempo veramente di merda e tra poco viene a piovere. E qui non posso uscire, perché... Ed è... 15 giugno e non so come devo fare. Poi io ci devo andare fino al 18 a scuola potente, perché fino al 18 non ci devo andare. Penso che qualche volta metterò a fare dei video. C'è 15, 16, 17 e 18. Mi mancano 3 giorni, 3 mesi da scuola. Se io faccio vedere il calendario, è completamente 15 giugno. 15, 15, 16, 17 e 18. Penso che il 19... Il 19 non ci devo andare, perché è finita la scuola. Ovviamente il 19 è giugno, sicuramente raga. Quindi io spero di portarvi dei video. No, non in mutuo. C'è in mutuo, per fuori. In mutuo. Posso sapere se volete i video in mutuo. E adesso faccio un bello video dove dobbiamo... Eccomi ragazzi. No, no, ancora non è anche acceso la televisione. Ok, quanto sono scemo. Non so dove... Comando. Eccolo. E' tutto distrutto, comunque. Ok. Ci andiamo. Ma guardate la mia Playstation ragazzi. Non riesco a capire se è la 3 o la 4. Non riesco proprio a capire. Fatemi sapere nei commenti se è la 3 o la 4. Fatemi sapere nei commenti raga. Ok raga, eccolo. Ecco qui. Si sta viando. E aspetta. Aspettate che... Vado a prendere il mio joystick. Che ho due joystick. Perché... Deve giocare anche il mio fratello alla Playstation. Cioè non... Non possiamo giocare in due perché... Non sappiamo come va. Fatemi sapere qui sotto in descrizione come si fa. Che siete miei ragazzi raga. Lasciate 40 mi piace e non dimenticatevi di lasciarli. Ah, poi vi voglio dire un'altra cosa. Mio fratello che sta di là. Forse possiamo dirgli... Di... Di... Di giocare con noi, no? A GTA 5 perché non sappiamo come si gioca in due. Quindi giocheremo a... All'Hastling. Quindi sicuramente dovremmo giocare solo io. Perché mi fastidio con lui. Ok. Il gestico è suo. Se lo prendiamo ci ammazza. Ci ammazza prima a me e poi... Poi inviare... E poi sbatte il telefono per terra. Aspettate. Ci sta telecamera. C'è stato telecamera però... C'è stato telecamera. Ok. Eccomi qui ragazzi. C'è... Ci è voluto un po' di tempo. Eccolo qui. Jesse. Che è mio papà. Come vedete. È una giornata di merda. Come ho detto prima. È una giornata veramente di merda. E come avete visto nel video. È una giornata di merda. Quindi non possiamo cuscire un po'. Perché me lo metterà poi a ora. Aspettate. Ok ragazzi. L'ho messo. Da un po' di tempo l'ho messo. Adesso mettiamo anche il... Il dischetto. Allora. Vediamo. 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 Dove sta GTA 5. Aspettate. Ok ragazzi. Sono ritornato. Ecco qui. Abbiamo messo GTA 5. Ci abbiamo messo un'ora. E con mia sorella. Ciao. 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 Mi pare un po' strano. Perché è piccola. Ragazzi. Non riesco a fare niente con questa telecamera. Allora ragazzi. Sapendo che lei non capisce. A mettere il telefono così. Lo manterò io. Come non riesco a fare niente. Ragazzi. Con questa telecamera qua. Con questa telecamera non posso fare niente. Aspetta. Non mi appoggio da qualche parte. Aspettate. Forse ci vedete. Ci vedete? Si forse si. Aspettate. Si stesse qualcosa dietro. Ok. Così è perfetto. L'amore. Così veramente è perfetto. Sì. 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 No, 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 no.